Non mi interessa, adesso basta, tu non esci con nessuno, non credi che ti fai chiamare, è inutile che prendi il bello, il calcetto, che è il calcetto? Non mi interessa, vedi che chiudi con me? Vabbè tanto io non mi interessa, tanto rimani a casa, rimani a casa stasera e basta. Forza esci dal bannino che devo fare il bannino. Aspetta. Esci? Sì. Cosa fai? Le altre la ragazza è là dentro. Andrea cos'è in otto? Cos'è in otto? Niente. Apri? Ora. Apri? Ora. Apri. Ora aspetta. Apri. Aspetta. Apri. Aspetta. Apri. 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 Che c'è? Che cosa fai? Brutto stronzo, che cosa fai? Brutto stupido. Non tu non esci, che cosa fai? Rimetti al posto subito perché guarda e riprisce per sempre. Mi interessa. Io devo uscire. Tutto a posto. Non mi interessa. Subito. Affanculo. No. Cosa sprechi? Io adesso ne... Bambino stupido.